musica Ciao ragazzi, amico con un nuovo video e ragazzi vengono andati su FNAF l'ultima volta ci siamo lasciati che... siamo... siamo arrivati nel... proprio... Hellships nella... nel risco anche del ship il risco anche messicano e... allora si va a questa parte infatti oh FIFACIO MONTI ok ciao eeeh venga allora roxy oh eccola roxy adesso roxy è in altra parte della stanza cioè è nicilissima a me qua è pieno di roba che rompe i balle si sta vicinando a me e ci sarà a me che non è un poco sicuro a cui nascondici quindi se vorrei guardare per un po' la... 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 per organizzarmi meglio e mi devo trovare un posto dove nascondermi e l'ufficio potrebbe essere qua l'ufficio perché se passiamo di qua andiamo... segniamo a... a... destro e... lì c'è l'ufficio della sicurezza passando per di là dobbiamo passare a... in quella zona qui dobbiamo passare in questa camera qui dobbiamo passare per di là quindi dopo il mondo c'è il... quel corridoio che si porta all'ufficio che è la sicurezza ah no ragazzi scusate mi sono sbagliato dobbiamo essere qui dobbiamo... proviamo a passare per di là aspetta forse mi sto... mi sto confondendo un secondo eh sì non sono niente prova a tagliare va oddio ragazzi io... veramente ragazzi io sto provando difficoltà ah l'ufficio ragazzi ok l'uff... l'ufficio è qui dobbiamo andare a andare a andare a questo punto qua così in modo tale che arriviamo all'uffi... all'ufficio infatti l'ufficio della sicurezza ok quindi dobbiamo andare qui a questo punto e poi a questo punto qua dobbiamo andare che si troverebbe poco lontano e lontano da qui ti sei niente sei il migliore non venga ok ragazzi sono riuscito a trovare il punto dove devo essere a questo punto è ok sono necessari di prendere sono necessari di prendere a causa dei problemi precedenti guarda un po' di più guarda un po' di più ok 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 mi piace mi piace mi usbendo oh scappa scappa scappare via scappare sumico sussare via ok ok allora siamo dentro l'ufficio ok adesso devo trovare il posto ah ok 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 no 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 freddy non so cosa succede tutto ciò che ho fatto era prendere non freddy l'office l'office è ora potrei accettare l'allarme ma prendere un po' di tempo non so non so non so non so non so no no non sarò ok non è Dai forza, forza che puoi fare, dai freddi, vizio, non sei nel lì, vattene, merda, no, no, non sono qui, no, no, Dai, vengi, 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 v Allora, becca, come, ok, 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 ok Dove vedi che fai due spiega l'allarme, che faccio? Che cosa devo fare? Ok Ok Che fai Go to the back of the prize counter. The fire escape is in the VIP room I bet you don't even have I don't want to go to the VIP room. I don't want to go to the VIP room. Qua non è... non è accessibile. Ah! Oh guarda, i pelucce che i bebi! All'acqua... Alla missione. Guarda, la sala VIP nel retro dell'angolo fermi. Ok Ma... ma mai? La sala VIP? Dove finisco? La sala VIP E' come stiamo going? Ok, la sala VIP è qui Credo che la sala VIP è questa Poi scappiamo Qua saldiamo Saldiamo qua Ok Ok Figo! Che no vabbè, ragazzi Ma qua siamo... Maschio! Che figo, ragazzi Siamo proprio... Sopra... Allora siamo ascolti noi Nel primo episodio, no vabbè, figo Ok Non puoi scoprire sempre Merda! Pugno è che c'è la bucana Sopra... Sopra scegliere... Non puoi scoprire sempre 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 Ok Ok Questa... Questa... Questa sia la VIP Se non mi sbaglio Ah! Ecco E li come andare E li dove dobbiamo andare Ma... Ah! Oh, forse capito. 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 Ok. Ok. Oh, forse capito. 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 I've spent the hour leaving a charge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass and find a way to turn on the left. Good luck superstar entering rest mode. Okay, I'll do my best. Do you want to go to the next scene? Okay. Okay. I'm safe because I don't know what I'm doing. I'm safe. Okay. Okay. Poi, andiamo qui, ok, dobbiamo andare nel best stage, dobbiamo trovare un spazio per andare nel best stage, quindi, ok, qua abbiamo tutti i cartoni di Foxy, qua, ah, l'ho pigliata del ship, ma co' cazzo, dai, vattene, brava, 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 ok, ma cu, 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 ma vaffanculo, Cazzo, cazzo, proprio sti Robux non si smentiscono mai, proprio sti Robux proprio non si smentiscono, Ok, vediamo, adesso come lo penso, la frenesia famiglica di Sica, la palestina non si arresta, Anche scattando la spina continua non è possibile, ci abbiamo uscita la carica di Sica Reclamo perché avevo l'afferco? Tutti ricordano che è successo a quei bambini Come è successo a quei bambini? Oddio mio Comunque questo pezzo di gameplay mi fa muscolare Ok, qua siamo, ok, non c'è nessuno Ok, qua abbiamo qui a niente, solo una camera qui, una camera smarrita Ok, qua siamo, ok, ok, qua siamo, ok, qua siamo. Ok, qua sono, ok, qua sono, ok, qua sono, ok, qua are訣 chwica cazzo, mentre io ho vediamo se troviamo qualcosa qui no non covo assolutamente nulla secco oh ok 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 siamo nella nella solo prove adesso qua salviamo e andiamo continuiamo a trovare il pass ok qua adesso sicuramente il pass può essere qui allora andiamo proviamo a vedere se il pass è qui si allora trova l'ascensore dell'ufficio del best answer trova come controllo dell'ascensore dell'ufficio del best answer può essere qui infatti può essere qui oh vediamo vediamo cosa abbiamo qui oh possiamo entrare nella battaglia della scorsa fantastico ragazzi fantastico ok ok sono bravo a che parte ah ok il best answer potrebbe essere qua il best answer il best answer qui qui è qui a questo è un esempio si ma che vera si si c'è qualcosa di più in qui cosa è questo? sembra... vecchio Gregori? cosa hai fatto? posso comunicare di nuovo credo che hai segnalato il mio grazie vedeteci sul monitor non credo che potresti considera una seconda freddy, vedo Roxy e Monty sono entrambi al giudizio non lascia le dure le dure si vedeteci le dure le dure le dure ok, ma come si vedeci? vedeteci la dure vedeteci 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 vedete gregory non posso stop le dure ah ma sono rimbora minchia comunque si c'è che sono ok eccolo cosa faccio come faccio? come faccio? e come faccio? come faccio? come faccio? come faccio? dai ragazzi ti 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 non ti hai ragazzi merda ok adesso non fai infecca ok 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 adesso va bene che ci ha di qua qui qui can you see me che c'era ora can you see me 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 e questo è il disc esatto no 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 C'è proprio il nostro freddy, qui qua freddy, ok ma il tutto salvo, salvo ragazzi che questo video sta guardando troppo devo dire, poi ragazzi il video si conclude qua, poi ragazzi io credo che questo video si è appresciuto, lasciate un bel like se volete altri video come questo, andate a seguire i social che vedete qua in questa overland, e ragazzi iscrivetevi al canale se non avete fatto, e ragazzi ci vediamo al prossimo video, e ciao ragazzi, scusate sono stanco. Ciao Ciao